Emozioni, gol, partite tutt'altro che banali. Nel girone F del campionato di Serie D continua a fare in cetta di vittoria e consensi la re canatese di Giovanni Pagliari che stravince a Fano e aggancia in vetta momentaneamente il Trastevere sotto di un gol a Basto Girardi prima dell'interruzione definitiva causa nebbia. Al minuto 35 del primo tempo, impressionante il trend dei leopardiani che dopo lo 0-4 con Tolentino all'esordio hanno inanillato nove vittorie e tre pareggi. Le abruzzesi, il noteresco, impatta al Savini con la San Benedettese. A speranza risponde a tre dall'epilogo De Sena. Il primo posto dista nove punti ma il club del presidente Salvatore Di Giovanni che sta per ufficializzare il fantasista Vittorio Esposito e il centrocampista Di Arrà deve recuperare la gara col Castelfidardo, match in programma nelle Marche il 6 gennaio. Altresì in ritardo l'ambizioso Pineto che proprio a Castelfidardo sblocca il punteggio sul rigore con Minnozzi ma a quattro dal termine viene raggiunto da questo gol di Cardinali. Appena quattro pareggi nelle ultime cinque per l'undici di Marco Pomante che accusa già il corposo ritardo di ben dieci lunghezze dalla coppia di testa Re Canatese-Trastevere. Imbattuta in trasferta ma ancora a caccia del primo successo all'Angelini, il Chieti di Lucarelli col Tolentino, botta e risposta nel primo tempo. Vantaggio ospite firmato da Zammarchi, pari di consorte al trentacinquesimo. Messe di gol nell'unico derby di giornata tra Castelnuovo e Nereto, padroni di casa sulle montagne russe, avvio a shock, doppietta di Boito ma reazione significativa. Due volte ripa, ribaltone momentaneo di San Severino in pieno recupero 93esimo, rete di Nardini per il 3-3 definitivo. Boccata d'ossigeno invece per la vastese, unica tra le abruzzesi a sorridere, ma quanta fatica il cospetto della cenerentola Aurora Alto Casertano, piegata solo nel finale. 3-0, 81esimo Monza, 88esimo Alessandro, 91esimo Alonzi. Turno infrasettimanale anche nel sempre più avvincente campionato di eccellenza. Al momento senza rivali la capolista Avezzano, che vince 3-2 a basto contro una pugnace Bacigalupo, marcatori pendenza, Dos Santos sul rigore SL per i padroni di casa, Letto e Triglione dal dischetto. Dopo 16 giornate sono già 8 i punti di vantaggio della squadra di Torti sul Giulianova, costretto però dal Covid al secondo stop consecutivo. 9 invece sull'Aquila e Lanciano, entrambe vittoriose rispettivamente in casa sul Fanalino Villa 2015, 5-1 e a Capistrello 1-2. Nei piani alti molto bene anche la Torrese, 4-1 in casa con l'Angolana e l'Alba Adriatica 1-2 all'antistadio di Pescara contro il Delfino Curi. Nei bassi fondi prezioso successo interno delle penne sul Casalbordino per 3-2, match winner cacciatore al 23esimo della ripresa.